Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo proprio all'esterno, quindi all'interno dell'orto, il giardino del convento, per raccontarvi quello che accadeva qui nel novembre del 1919. Innanzitutto ci troviamo proprio dinanzi a quel portoncino ovale che vedete. Era un luogo dove ogni giorno Padre Pio, dopo aver recitato l'Angelus, quindi a mezzogiorno, quindi prima di entrare al refettorio, si fermava davanti a questo piccolo portoncino ovale e benediva tutti coloro che attendevano qui con le loro auto, con gli animali, con tanti piccoli oggetti, c'erano tanti sposi. Era un luogo ormai importante perché era diventato anche un momento significativo della giornata, dove in tanti aspettavano Padre Pio che uscisse proprio da questo portoncino ovale per la benedizione. Cosa accadeva nel 1919? Beh, sappiamo già tutti che qui nel 1919 arrivarono tanti fedeli, arrivarono tanti pellegrini perché si era diffusa questa notizia di questo frate che compieva miracoli sul Gargano. Ci racconta qual è il suo stato d'animo proprio Padre Pio e lo racconta al suo padre spirituale, padre Benedetto Nardella. Infatti lui scrive una grande pena che sentiva che gli causava lo zelo divorante per la salute delle anime e poi c'era un contrasto martoriante dentro di sé tra il desiderio di unirsi a Dio e la brama di restare su questa terra per giovare ai fratelli e lui scrive suona la mezzanotte e sfinito dagli esuberanti lavori sostenuti in tutto il giorno prendo la penna in mano per scrivervi qualche cosa del mio animo. Lo faccio per non venir meno al vostro desiderio che per me è un comando. Povero me scrive Padre Pio non posso trovare riposo stanco ed immerso nell'estrema amarezza nella desilazione più la più disperata nell'angustia la più angosciosa non già di non poter ritrovare il mio Dio ma di non guadagnare di non guadagnare tutti i fratelli a Dio. Cosa devo fare? Io non lo so soffro cerco a Dio la salute per essi ma ignoro tutto se Dio accetti qualcuno dei miei gemiti anzi aggiungo scrive Padre Pio che dubito qualche volta che se mi trovo almeno in grazia di Dio e questo dubbio penosissimo è avvalorato dal timore che mi veggo all'oscuro se il Signore esaurisce ciò che mi adopero a fare per sovvenire all'altru miserie e anche dall'osservare che il mio cuore è sempre arido inquieto ansante nel vedere tante anime sofferenti senza poterle poi sollevare. Mio Dio Padre mio veramente questo stato è insopportabile penoso per me desolante ed è quasi insostenibile. Questo stato d'animo mio non si può descrivere in certi momenti se non mi sorreggesse la grazia divina starei sul punto di morire distretto al cuore quasi disperato e solo questo la sottomissione alla divina volontà mi rende un po' di pace ma poi l'occhio si abbassa su sui propri fratelli dai quali si vede circondato e questo rimanere di bel nuovo amareggiato questa estrema dolcezza in quanto l'anima si riflette in Dio l'estrema amarezza in quanto si riflette al prossimo e intanto tra questi due estremi mi sento morire, mi veggo agonizzare senza mai morire.